Molte giovani L'uomo è incapace di amare una donna vecchia, mentre molte giovani amano gli uomini vecchi. Perché? Commento Perché per le leggi biologiche una donna di 50 anni non può essere madre se non in rarissime eccezioni, mentre l'uomo può essere spesso padre a 70 e a 80 anni. Le leggi biologiche eseguono la legge spirituale, per cui l'incarnazione femminile serve più di quella maschile all'evoluzione della specie.